Martedì 26 febbraio 2019, benvenuti a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Sono le 12.32 in questo istante, ben ritrovati di nuovo qui per raccontare la nostra città, i nostri protagonisti. Questo oggi è Periferia, lo vedete anche dal nostro titolo, oggi è Focus Periferia e quindi diamo il benvenuto al padrone di casa del martedì, Walter Ghirubini, consulta Periferia Milano. Buongiorno, ben ritrovati a quella che è la 67esima puntata di Focus Periferia. Walter, grazie mille ancora di essere qui per la 67esima puntata. Chi ci ha portato oggi come ospite? Oggi abbiamo un gradito e direi un po' particolare ospite, Umberto Di Donato, che è il fondatore del museo della macchina da scrivere, macchina da scrivere o macchina per scrivere. E adesso appunto, Umberto, grazie mille di essere qui, grazie davvero a Umberto Di Donato di essere qui, l'inventore, il fondatore del museo della macchina da scrivere, per scrivere, appunto prima stavamo discutendo fuori onda, qual è la versione giusta? Ma si possono usare indifferentemente le due formule. La più usata però oggi è da, va bene anche per. Difatti io nei miei scritti uso indifferentemente a secondo della cacofonia del discorso che sto facendo delle parole che ci sono al fianco. Perché diceva che macchina da scrivere è macchina da usare per scrivere. Da usare per scrivere, si può usare. E poi una forma un po' francesizzata perché conoscete che in Francia si dice machine à écrire. Ah, quindi, è qui, è qui, è qui, sì. Beh, io la prima domanda che mi viene così subito è, come è venuta in mente l'idea di aprire un museo della macchina da scrivere? Bene, io il primo pezzo l'ho comprato nel 1958, appena arrivato a Milano. Fui assunto in Piazza della Scala, un bel lavoro che mi piaceva molto, usavo sia le macchine calcolatrice che le macchine da scrivere e comprai una lettera 22. È quella lì. Questa qua? Quella lì. Ma ha avuto una fortuna questa macchina. Questa qua verde che c'è qui davanti a noi. Questa qui verdina perché è andata a finire cinque anni fa tra le braccia di Luca Zingaretti. Perché ha fatto? Perché io ho prestato 70 macchine alla RAI per realizzare i film la storia di un sogno su la Olivetti e particolarmente sul suo grande dirigente che era Adriano Olivetti. Infatti qui, guardate, c'è un bellissimo articolo su questo, che noi diciamo era del 2013, appunto, ottobre 2013 e vedete qua appunto Zingaretti che interpretava Adriano Olivetti nella fiction con tutte le sue macchine. Le macchine che ho fornito io. Ma non le ho soltanto fornite. Interessante che non le ha fornite, non le ha fornite, non le ha fornite, ma le ho anche imballate e caricate su un camio che la RAI ha mandato da Roma. Ma solo con l'autista il camio. Per cui ho dovuto adoperarmi io e mia moglie. Abbiamo fatto i pacchetti, abbiamo fornito, ci siamo caricati. Insomma, è una situazione molto casalinga su certe cose, lo sappiamo, ma che ha raggiunto però delle dimensioni al di fuori del casalingo. Facendo. Di quanti pezzi stiamo parlando? Stiamo parlando di 2.100 pezzi. 2.100 macchine da scrivere. Ma non sono tutte esposte. Eh no. Perché l'ambiente che ho potuto acquistare io con la liquidazione dell'azienda dove lavoravo 20 anni fa e non poteva essere grande, è limitato, sono 200 metri quadrati e quindi è tutto fatto ad opera mia. Non ho lo spazio per poter mettere in mostro tutti i tesori che ho raccolto in questo periodo. Ecco, ma anche queste macchine da scrivere, insomma, la cosa interessante è che sono tutti pezzi davvero importanti, anche perché molti di loro si portano una storia dietro. Bellissimo, bellissimo. Io mi raccontavo una storia molto variegata, molto difficile anche da raccontare perché è lunga in realtà, ma del suo pezzo è quello che dice fosse più pregiato. Il pregiato è una William prodotta a Brooklyn nel 1887. In 1887. In Italia c'erano stati diversi tentativi per realizzare una macchina da scrivere, ma nessuno era riuscito poi a trasformare il progetto in una produzione perché bisognava, gli inventori, i geni, solitamente non hanno quattrini perché non vadano al vantaggio economico delle loro realizzazioni. Devono poi trovare chi investe il capitale. Infatti passeranno per pochi anni prima che arriverà in Italia, ma la storia di questa macchina è molto interessante. Sì, è stata costruita a Brooklyn, un rione di New York. Stiamo parlando di fine Ottocento, il periodo in cui c'era una forte emigrazione di italiani verso i paesi stranieri, particolarmente verso il Nord America. Perché? Perché l'Italia si era già unificata, ma era ancora sviluppata industrialmente. Quindi quasi sicuramente, insomma, costruita molto probabilmente da mani italiane. Costruita a Brooklyn dove arrivavano gli italiani emigrati e quindi quella macchina, quella aziendina assumeva personale anche non qualificato. Quindi comunque qualche maniera italiana già nel 1880 dopo quella macchina. Questa è la prima anima. Poi abbiamo, ci fu a un certo punto a Chicago l'Expo. L'Expo. Vedi che questi famosi di Expo che alla fine ricordano cosa fanno. L'893 Chicago, l'Expo con un signore che si chiamava Alba Thomas Edison che applica per la prima volta l'energia elettrica per poter illuminare la città di Chicago. Per la prima volta si accendono la lampadina, diciamo. Eh sì, perché fino ad allora i punti luce bisognava andare a accendere le spiegne con le scale uno per uno. Ma voleva che andasse a tenere una serie di conferenze un emerito professore di una scuola a Regia che si trovava a Torino. Questo professore era Galileo Ferraris. Ok. E l'avevano invitato ad andare a Chicago ma lui non voleva andare perché non conosceva l'inglese. Vado lì, parlo e non mi capisco. Si vergognavo. Però all'ultimo momento quest'uomo geniale gli viene l'idea di passare il curriculum dei suoi allievi e ne trova uno che era stato a Londra. E allora si mette d'accordo con questo allievo e vanno nella sala delle conferenze di Chicago e tengono un incontro perfetto perché la popolazione voleva sentire parlare, gli americani non voleva sentire parlare questi italiani. Il ragazzo traduceva con molta abilità, tanto che l'organizzatore Thomas Edison gli procura un anno di insegnamento alla Stanford University di Palo Alto in California. Chi era questo ragazzo giovane? Chi era questo? Chi era, l'ho chiamato sempre ragazzo ma era un genio, Camillo Olivetti. Che quindi ha fatto la prima volta. 22 anni e ha accompagnato il suo professore a Chicago. Rimane lì a insegnare, vede alcune macchine già costruite negli Stati Uniti, c'era la Remington, c'era l'Underwood. Cosa interessante mi diceva, voleva andare a parlare con la Remington, che era la Apple dell'epoca, ma la Remington disse ma io questo sporco italiano non lo voglio neanche vedere. Venivano chiamati così, sporchi perché facevano il raccoglitore di immondizia. Sì, quella poi appunto che da sporco italiano aveva degli amici a Brooklyn e quindi riesce ad arrivare in contatto con la famosa macchina da scrivere di cui sopra, con la Williams. Camillo va a Brooklyn, si fa presentare il capo, il proprietario della Williams, che si chiamava Mr. Williams, il quale si innamora di questo ragazzo, capisce che è un ragazzo che ha i numeri e gli dà l'incarico di venditore per l'Italia della sua macchina da scrivere. Quindi, quasi sicuramente, la macchina da scrivere che Umberto ha nel suo museo è una di quelle lì, delle prime macchine che arrivarono a tornare indietro in Italia insieme a Camillo Olivetti. La cosa interessante è che dopo, nel 1911, riuscirò a commercializzare le prime vere macchine da scrivere. Prima, nel 1908, ritorna negli Stati Uniti, va a visitare la Underwood, che era diventata leader ai danni della Remington, prende nota probabilmente, come ritorna in Italia il 29 di ottobre del 1908, va a Ivrea, compra i primi 500 metri di un capannoncino e si mette a costruire la macchina da scrivere. Fonda la società anonima Camillo Olivetti e Cin, si chiamano così di S.P.A. una volta. All'epoca, sì. E lì parte la costruzione, in tre anni costruisce la prima macchina che si chiamava M1 e la presenta a Torino in occasione dei festeggiamenti che si tenevano per ricordare i 50 anni dell'unità d'Italia nel 1861-1911. Ecco, questa è la storia di un solo pezzo che ha all'interno del suo museo, del museo della macchina da scrivere. Immaginate cosa sono gli altri 2.000 pezzi, cioè quante storie ci sono. Mi raccontava prima di una macchina fatta apposta per scrivere gli assegni circolari in sterline, quando la sterlina non era decimale ma usava tutto un sistema diverso. Due pezzi ultimi acquisiti, uno giovedì scorso mi è stato mandato da Londra ed è appunto una macchinetta che emette gli assegni circolari per conto di una banca, ma li emetteva in un periodo in cui la sterlina non era ancora nel sistema metrico decimale, per cui ogni sterline era composta da 20 sterline e 12 pens. E quindi bisogna fare una macchina un po' particolare. Un'altra invece, signori, mi è arrivata venerdì. Venerdì ho preso un colpo perché mi arriva un pacco da Roma, c'era presente anche il dottor Cherubini. Ma è ripresa questo... E certamente, lo abbiamo anche immortalato. Ha ripresa. C'è un'immagine se la regia vorrà poi farla scuola. Grazie. Con Umberto che ha in mano la Michela. Ed è una macchina Michela, chiamata così, ma non perché i nomi gli avevano dato, no, il costruttore, l'inventore di quella macchina. È stata una delle prime macchine steno type e mi è stata inviata dal Senato della Repubblica Italiana di Roma. Quando vedete alla Camera del Senato che ci sono i pianisti cosiddetti che sembrano suonare, qui invece stanno sostanzialmente stenografando. E quella è arrivata appunto l'altro giorno in un pacco giallo enorme delle poste e mano a mano abbiamo assistito in diretta a questa scoperta di questo dono. La cosa interessante appunto, secondo me, di questa storia è che se stessimo parlando di un qualsiasi altro museo o fondazione o così, sarebbe normale all'ordine del giorno che appunto arrivano opere, si imballano, poi ci saranno dei curatori, una struttura fatta di 100-150 persone che mettono a posto le sale per la mostra e un museo sempre pieno di gente. Invece qui siamo parlando di un'avventura che sta facendo Umberto da solo. Cioè questo che è abbastanza disamando. Ma portano le macchine anche all'estero. E poi sappiamo appunto, oltre alle collaborazioni con Rai, sono che è stato a Ginevra, la Reazione Unita lo ha portato dei pezzi, ha fatto mostre in giro per l'Europa. Cioè Walter, come al solito ci ritroviamo a raccontare di una grandissima eccellenza, di cui noi milanesi ne sapevamo poco, e di cui chi dovrebbe sapere un po' di più di non milanesi, magari chi ci governa, comunque chi ci gestisce ne sa come fosse meno a volte. Ma diciamo una cosa, perché non è tutto che non funziona. Anzi, secondo me noi siamo per esempio in prossimità di quello che è Museo City. Museo City si svolgerà i prossimi 1, 2 e 3 marzo, da venerdì a domenica, e dove ci sono alcune decine di musei. Adesso rispetto alle documentazioni che sono state fatte, anche delle brochure, delle informative che ne riportano una quota a parte, però diciamo che a Milano ci sono all'incirca un centinaio di musei. E quindi ci sono quelli più conosciuti, a quelli meno conosciuti, ma che ugualmente hanno l'opportunità e la necessità di essere conosciuti. Ed anche, alla luce di numerosissimi spazi che ci sono liberi a Milano, sia di proprietà privata, ma soprattutto di proprietà pubblica, che hanno la necessità di essere rivitalizzati per uscire dallo stato anche di degrado e abbandono. Ecco, per esempio, queste cosiddette week, che lasciano un pochettino il tempo che trovano, nel senso che c'è un'apertura particolare in alcuni giorni, un'attenzione, e poi ritorna qualcos'altro a Milano all'attenzione, ci sono le sfilate della moda e quant'altro, ma invece possono essere proprio l'occasione per iniziare a fare sistema. Allora, una ricchezza, un patrimonio di questo genere, nel museo attualmente visibili ci sono delle 2100 macchine, 600 macchine da scrivere, che già comunque guardare 600 macchine da scrivere è una bella impresa, non è di secondo momento. Ecco, può essere l'occasione per fare anche una riflessione strutturale sulla situazione dei musei e alcune volte con dei piccoli interventi, proprio perché spazi ce ne sono liberi, si possono coniugare la necessità di utilizzare e far fruire questi spazi, con anche delle necessità, come quella che poneva Umberto Di Donato, di avere uno spazio maggiormente ampio. Dopodiché, all'interno di una struttura ci sono tante cose, può essere il servizio civile, c'è la scuola lavoro. Io so che stiamo lavorando tantissimo con le scuole, fanno tantissimi eventi con le scuole, prima di una struttura pensavo, perché no l'interrata scuola lavoro, ad esempio, anche noi di Miano News siamo usufutto. Allora, ci sono tante possibilità dove rispetto anche alla necessità di tradurre questi concetti di servizio civile, di scuola lavoro, poi molto spesso chi ha la necessità di far esercitare in queste cose gli studenti, non sa bene da che parte andare. Ecco, allora ampliamo il campo e coniughiamo, e per cui le istituzioni, il Comune in particolare, avrebbe questo ruolo anche di conoscere il quadro della situazione generale e non solamente alcune cose, ma avere il quadro della situazione generale e quindi proprio istituzionalmente, al di là poi di quello che possono essere sicuramente delle iniziative significative ed organizzate bene del cosiddetto volontariato, però chi amministra la città dovrebbe avere un quadro d'assieme in maniera tale da favorire questo tipo di contatti che non possono nascere per caso. Ma ci devono essere anche alcuni canali informativi molto semplici, per cui cerco offro, tra virgolette, che non può essere però lasciato al fai da te, perché se lo lasciamo al fai da te, diciamo pure così, in un piccolo comune tipo Baranzate, che una volta era parte di Bollate, è un sistema che magari funziona. L'amministrazione è lì, un'associazione piuttosto importante, magari anche un benefattore importante, il cerchio si chiude facilmente. Se siamo a Milano, il cerchio non si chiude assolutamente, è una difficoltà. Invece ha la necessità proprio di chiudersi questo cerchio e così di far emergere le varie potenzialità, ciò che esiste e che può essere messo a beneficio di tutti, ma invece in una città come Milano, che ha una grossa frammentazione, ha molta difficoltà. Io sono passato a questo, Umberto, è interessante che queste collaborazioni che fai con le scuole, anche perché ti sei inventato dei concorsi, ad esempio. Accordaci con il concorso di dattografia che ti sei inventato, che è molto interessante, anche perché mi dici poi ogni anno i ragazzi sono sempre più accaditi nel voler vincere, faccio dal mondo, la macchina da scrivere. Sì, sì, questa macchina sta incuriosendo i giovani che non l'hanno usata, di più che non quelli che ci hanno lavorato su per anni. Mi sono inventato una formula di concorso particolare, adatta alla situazione. Non è una gara di velocità, è una gara di precisione. Stabilisco a chi voglio intestare il concorso, a Milano chi posso usare, chi è che è stato che ha dato lustro alla lettera 22? Il grande Montanelli. Quindi tutti i concorsi che faccio a Milano li dedico a lui. Sono al ventunesimo concorso intro Montanelli. Quando vado all'estero, nella nazione di lingua francese, uso George Simenon. Prendo una frase o due o tre o quattro frasi di intro Montanelli o di George Simenon e faccio copiare a tutti i partecipanti al concorso la stessa frase. Quindi possono eseguire la loro partecipazione o partecipare a questo concorso anche in giorni diversi, perché lo scritto che esce da quella macchina è la prova d'esame, è incontratabile, quindi non si può discutere. Se invece la facevo di velocità, dovevo cronometrare, dovevo preparare 200 macchine contemporaneamente, io invece con 10 macchine possono concorrere anche a mille ragazzi o a mille persone. Ho fatto una mostra adesso al centro Lodi, al centro commerciale Lodi, ma hanno partecipato anche gli adulti. Ha vinto una bella dattilografe, giovane di 83 anni, ma era felicissima di aver vinto, che non mi posso immaginare. Quindi è una cosa che mi mette gioia e entusiasmo, però devo riconoscere che il tempo vola, ormai sono 15 anni, e faccio fatica a trovare qualche volontario che mi aiuta, perché io scrivo anche libri e ho bisogno del tempo, dello spazio. C'è un libro che mi fa impazzire il titolo che ho fatto qua, questo qui, che è anche da capire bene, mi dice la penna, il tasto e il mouse, ma la penna... è la penna d'oca, perché prima che Guterbeck inventasse i caratteri di stampa si usava la penna d'oca per scrivere. Poi il tasto, va bene, guarda la macchina, e adesso l'evoluzione appunto il mouse, fatti qui. E altri libri, poi ho scritto appunto, vediamo la scrittura degli dei di Braille, tasto magico, insomma, sono tanti libri che stiamo vedendo adesso sono impressioni in onda, in questo momento in grafica, insomma, tanti libri che ha scritto. Cosa servirebbe per appunto migliorare il... Qualche collaboratore, volontario, perché non ho la possibilità di poter sostenere il costo di uno stipendio, e poi un'istituzione, qualche stabilimentino dismesso, perché poi provvedo io a ristrutturare, a sistemare, a fare, ma mi occorrono minimo 300-350 metri quadrati per fare una cosa... Da dove arrivano appunto questi pezzi che ha... I pezzi arrivano come tutte le cose a volte che sono più valide di quelle programmate, da ragazzo, quando avevo 15 anni e frequentavo la seconda ragioneria e terza ragioneria, mio padre, lungimirante, che lavorava a distritto militare, aveva sul tavolo una lettera M2 della Olivetti, mi diceva, quando esci dalla scuola, non andare direttamente a casa, passa dal mio ufficio, ti diverti un po' a scrivere sulla macchina che ho lì, e impara a scrivere, non si sa mai un domani che ti può tornare utile. È stato un ottimo suggerimento di un genitore accorto. Io ho cominciato a scrivere a macchina e da solo ho capito poi tutti i funzionamenti, perché il papà non aveva tempo, lui era pagato per stare lì a fare altre cose. E ho imparato a scrivere. Quando ho conseguito il mio diploma, avevo qualcosa che mi distingueva dagli altri, ed era la datilografia, sapere usare una macchina da scrivere, e sono stato facilitato in tutte le mie decisioni, come quella di aver inoltrato una domanda a una grande banca, la più grande di Milano di quel periodo, e fui assunto. Perché sapevo scrivere a macchina, avevo fatto anche i compitini bene sull'assegno circolare, sull'assegno bancario, ma la cosa che è stata decisiva è che sapevo scrivere a macchina. Insomma, adesso... Dove è anche il museo? Il museo si trova in via Menabrea, numero 10. Eccolo qua. Zona Farini, tanto per intenderci. Tra le due stazioni metropolitane della linea gialla, Farini e Maciacchini. Sì, tra Zara e Maciacchini, trovo lì in mezzo. Via Zara, Farini e Maciacchini. E' comoda anche da arrivare, appunto, una zona molto molto... Tre fermate dalla... Ma tu ti chiederei questa volta proprio davvero una... Cioè, la morale. La morale di questa storia qual è? Ti chiederei questo. No, ma... Io direi più che morali, sono delle evidenze. Ecco. Allora, ci sono delle cose, ci sono delle iniziative, ci sono delle persone, e da qui il lavoro che fa Consulta Periferie Milano di mappatura anche. Perchè? Perchè così, per cui l'abbiamo anche costituito ormai da un po' di tempo il Centro Studi Periferie, proprio per dare una sistematica informazione su quello che evidenziano le nostre periferie. E allora le mappature servono affinché chi deve assumere delle decisioni possa farlo, diciamo pure, a ragion veduta. Questo è il tema. Quindi ci sono le evidenze. Adesso noi, come facciamo normalmente in Focus Periferie, portiamo alla ribalta, grazie alla disponibilità di Milano All News, portiamo alla ribalta tutta una serie di realtà che magari sono poco conosciute. Ecco, se uno va a vedere i video, avesse, facciamo queste mezz'ora, ma se uno avesse la pazienza ogni tanto di andare su YouTube, sul sito di Milano All News, a rivedersi questi spezzi di Focus Periferie, rivedrebbe proprio delle realtà e capirebbe quello, molto semplicemente, proprio online, molto semplicemente quella realtà molto articolata delle periferie delle quali si parla tutti i giorni ormai, però se ne parla ma poco si conosce. Perché questo qui è il gioco. Il museo è un esempio palese. Ci sono delle cose, sì, in periferia, c'è ricchezza, c'è vitalità, è quello che si vuole, va bene, ma allora andiamo a vedere cosa sono queste cose che sono così vitali. Ecco, è importante conoscere direttamente, mettersi dalla parte di chi opera per poter anche strutturare l'iniziativa, io dico pubblico-privato, come si suol dire, ma direi che quando un privato fa un'iniziativa pubblica è pubblico. Quando invece un pubblico non svolge il proprio ruolo, diciamo che è privato, cioè priva la città di quella aggiunta che dovrebbe dare, per cui proprio la funzione pubblica dovrebbe avere. Ecco, per cui, più che morali sono da una parte ricchezze e dall'altra parte utilizziamo queste ricchezze che ci sono. Oggi da qui viene una possibilità di ci sono degli spazi che ce ne sono tanti. Io ho in mente il rilevato ferroviario perché ne abbiamo parlato, lì c'erano qualcosa come 400 esercizi commerciali dove adesso si comincia a utilizzare per esempio per le sfilate di moda. Questa settimana ha vissuto grazie a Moncler. Grazie a Moncler oppure c'è anche il fuorisalone del mobile cominciano a essere delle utilizzazioni. Ecco, ma allora proviamo a guardare dal punto di vista non tanto di quello che farà Ferrovie dello Stato o chi per lei reti ferroviarie o come si chiama e che dice va bene io comincio a utilizzare un pezzo. No, cominciamo a dirgli noi abbiamo un grandissimo spazio. chi è che ha la possibilità di vitalizzarlo? Chi ne ha bisogno? Ecco, questo è il tema altrimenti noi rimarremo lì ancora per lustri e forse anche per decenni ad avere degli spazi che rimangono degradati inutilizzati e quindi anche con un ribaltamento su l'abitato circostante. Nello stesso tempo abbiamo delle realtà importanti che avrebbero bisogno di spazio potrebbero rivitalizzarli che però devono rimanere nel loro angolino. Questo qui è proprio il tema allora Museo City sicuramente può porre a tema questo cioè gli spazi tra virgolette museali ma proprio fare incontrare questi spazi vuoti con questa necessità di avere spazio. Questa è la solita storia che cerchiamo di raccontare da tanto tempo ma che ci piace raccontare cioè esistono delle realtà che sono delle eccellenze quasi sempre e che diventa un insegnamento appunto per poi riuscire a fare queste realtà su tutto il territorio cioè trovare ad esempio delle soluzioni gli spazi spazi ce ne sono a Milano noi abbiamo parlato del ramato ferroviario ma era un esempio ce ne sono veramente non mancano sicuramente non mancano sicuramente e lo si vede durante la zona del mobile dove nascono situazioni in qualsiasi luogo di tutto più o meno infatti quindi insomma lo spazio esiste e c'è speriamo appunto che raccontare portare queste storie serva per far conoscere e poi comunque lo sappiamo sul sito ad esempio di consulta per i feri in Milano so che insomma ci sono delle proposte reali ci sono delle soluzioni comunque delle proposte soluzioni reali non solo appunto racconto e tante chiacchiere ci sono proprio delle soluzioni che si potrebbero adottare o dei suggerimenti su come si potrebbero adottare noi abbiamo cercato proprio perché poi le cose se sono se sono vere cercano di darsi anche una struttura per quello tra le varie iniziative che fa consulta periferia Milano c'è questo percorso ormai da tempo avviato a scuola di periferie dove proprio in una logica lasciatemi dire scolastica a modi lezioni si mette a tema abbiamo messo anche più volte il tema degli spazi a lezione in maniera tale che si cominci a ragionare anche su quelle sono le modalità tecniche di concessione degli spazi quanti sono di chi sono perché non basta dire che ci sono degli spazi liberi poi ci sono anche le modalità con le quali vengono messi a disposizione e allora uno può dire bene quanti sono gli spazi liberi noi per esempio prendiamo gli spazi commerciali artigianali in capo aler e metropolitana milanese dove ne ce ne ha quasi 3000 quasi 900 sono liberi allora è vero che ogni tanto viene fatto un bando come anche recentemente qui al quartiere San Siro per 10 spazi ma il tema è che noi ne abbiamo 900 di liberi poi anche il comune ha dato degli spazi siamo riusciti a riempire i famosi ex supermercati che erano vuoti da quelli rimangono lì hanno luoti con un costo per la società un costo operale ecco c'è da dire che dal punto dello spazio sicuramente quegli spazi lì sarebbero interessanti per il museo della macchina per scrivere o da scrivere ecco per cui ci sono queste cose perché altrimenti noi continueremo a fare delle sperimentazioni ma non diventano politiche e quindi qualcuno potrà dire ma io ho già fatto sì ma ho fatto un pezzettino è come se io avesse un figlio piccolino e dice ma io gli ho dato da mangiare sì va bene va bene dormire riscaldamento vestirlo e quant'altro ecco noi dobbiamo metterci in questa ottica di cercare non è semplice naturalmente però è possibile di guardare le cose nella loro complessità se le guardiamo nella loro complessità diventa anche molto facile agire perché guardandole nella loro complessità riusciamo anche a raccogliere tutte quelle iniziative che ci sono che fanno parte del complesso e che solamente una logica un po' semplificatrice dice io ho quattro cose chiamo quattro e ho risolto il problema no io ne ho 400 e cerco di chiamare 400 per risolvere il problema altrimenti c'è sempre il delta di 300 erotti che rimane lì punto interrogativo infatti come il famoso delta delle x macchine da scrivere quanto è inventato 1.200 che sono 2.100 complessivamente in magazzino no 600 disponibili sono 600 disponibili quindi insomma davvero urge trovare una soluzione a questo io faccio davvero i complimenti siamo in chiusura faccio i complimenti a Umberto Di Donato del museo della macchina da scrivere complimenti davvero per il lavoro che ha fatto ricordiamoci l'indirizzo vediamolo Marco l'indirizzo del museo andiamo a vederlo ci sono gli orari anche dicevamo l'apertura del martedì il venerdì il sabato dalle 15 alle 19 in via Menabrea 10 zona Maciacchini Farini Zara normalizzata Zara Maciacchini quindi insomma comodissimo da raggiungere davvero grazie e poi soprattutto se andate lo trovate ci sono io l'indirizzo è libero l'indirizzo è libero l'indirizzo è libero diciamo che finché ce la faccio faccio tutto io anche se metto fuori il logo come vedete c'è il logo del comune di Milano sì ma è un patrocinio gratuito ok quindi senza finanziamenti ecco quando entrano nel museo c'è anche fuori nel vicino alla porta e quindi dicono quelli che vengono a visitare il museo che bell'idea che ha avuto il comune mi fa piacere però mi riesce di soddisfazione ecco finché c'è la faccia la faccia sul marketing il comune di Milano di cui fa parte anche Umberto Di Donato ha avuto una bella idea ecco deve diventare però fattore comune infatti per cui l'istituzione comunale deve anche farsi carico di queste cose perfetto grazie mille davvero ci vediamo niente grazie a voi al museo ma grazie mille per averci fatto veramente questa gemma questa chicchia davvero interessante che non conoscevamo chiediamo scusa di questa nostra mancanza ma che sicuramente diventeremo cassa di risonanza per questa realtà davvero davvero importante noi qui ho un importante lavoro di Milano News proprio di diffusione perché non è sempre facile organizzare una struttura che sia al servizio della città in maniera così puntuale e anche noi nel nostro piccolo con le nostre puntate settimanali cerchiamo di organizzare delle presentazioni che possono diciamo così andare oltre il conosciuto perché perché Milano mi piace mi piace l'intera sottotitolo delle nostre focus periferie oltre il conosciuto complimenti Walter questa volta è proprio azzeccato perfettamente quello che stiamo cercando di fare da ormai 67 puntate complimenti Walter devo dirti davvero grazie mille anche a te grazie a voi grazie mille davvero di essere stato qui gentilezza grazie a dottor Cherubini grazie anche a tutti voi che ci avete seguito da casa appuntamento con Good Morning Milano tutta domani alle 12.30 sempre qui in diretta su Milano All News grazie mille arrivederci a presto